Sono successi ora e ultimamente tre casi che hanno, insomma, sono entrati in casa, hanno portato via roba di valore. Qualche preoccupazione ce l'hanno creata. Ci sentono tutti abbandonati, vabbè, che si deve fare? È un grido unanime quello che arriva dal quartiere di via Chiarini, via Monti e via Papini, dove i residenti tornano a chiedere maggior sicurezza. Ne passare non passa mai nessuno di qui. Qui, infatti, i furti si ripetono ormai da tempo. Il 30 settembre scorso, il primo colpo messo a segno. Mia suocera? Sì, sono entrati la sera dalla terrazza davanti. Lei era dalla cognata, poi è rientrata in casa e loro erano purtroppo tutti dentro. L'hanno messa in un angolo del salotto, ma avevano già tagliato la cassaforte. Si presume erano 4-5 persone. Siamo in una situazione drammatica. Alcuni giorni fa, l'ultimo furto, in questo caso in via Monti, dove i ladri sono entrati in un appartamento proprio mentre i proprietari stavano dormendo. Senza scassinare nulla, i banditi si sono infatti introdotti dalle finestre del primo piano, lasciate aperte per far circolare l'aria, poi la fuga con un bottino da circa 10.000 euro. Oggi si vive con la consapevolezza che abbiamo tanti anziani in questa zona, tante persone anziane, soprattutto donne, donne sole nelle case. E si vive sperando che non accada niente di ancora più grave di quello che sta accadendo, perché non vorremmo che accadesse qualcosa di veramente tragico. Nonostante le richieste continue, ancora non è stato organizzato un servizio di sicurezza e non sono state installate telecamere di videosorveglianza nella zona. Le strade interne più o meno sono tutte così. Difficilmente viene a fare un giro per vedere se c'è qualcosa che non va. Certo, la sicurezza sarebbe meglio sì.